bene, terzo giro del cione caro doc, ti dico solo una cosa, preparati so che suderò, so che mi caccherò sotto, so che sarò felice come un bambino allora quello lì ti consiglio di tenerti come te, come bello, come una cosa non te seconda cosa, cerco di andare perché devo riprendere aria sì, sì, vai, vai, esatto, io mi devo provare questo direttivo e vedere com'è questa, con un'autoto a rorsa, voglio dire con Federico abbiamo dato tutto, onestamente con Federico non bermanico vai signori GTR questa pure davanti mi piace? è è è è è è è è E' un sacco di una. 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 Si, si. Ah, questo qua. Non ha pagato. Ma non lo so come un biglietto. Ma è una ragazza? Si. Non sa cosa sta andando. Un sacco. Un sacco. Un sacco. Un sacco. Un sacco. No, vanno a fermare. Lock? Buongiorno. E' scusa la. Adesso c'è il controllo Vedi come stai guidando appiccicato C'è un cagazzo 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 E un cagazzo C'è un cagazzo E' un cagazzo C'è un cagazzo C'è un cagazzo